Buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno e allora andiamo a vedere il santo di oggi, un santo famoso perché San Lorenzo viene abbinato alla notte delle stelle cadenti e dunque questa sera tutti come al solito hanno il naso all'insù eccetera eccetera allora San Lorenzo, San Lorenzo che è anche patrono dei diaconi, dei cuochi e dei pompieri Martire a Roma, 10 agosto 258, il sole è sorto alle 6.04 e tramonterà alle 20.23 vediamo il tempo per oggi, il tempo per oggi sarà irregolarmente nuvoloso con rovescio temporale già nel corso del mattino a fine giornata i fenomeni risulteranno diffusi localmente di forte intensità le temperature lieve diminuzione per la giornata di domani al mattino ancora nuvoloso, precipitazioni temporali con rovesci sparsi temperature in ulteriore lieve diminuzione, i venti sono di brezza tesa leggera la parte centrale della prossima settimana tornerà ad essere caratterizzata da condizioni di stabilità il tempo, dicevamo, questa è la fotografia delle 7.30 di questa mattina con già le nuvole che cominciano a prendersi lo spazio che, dicevamo poco fa poi lo spazio che per la giornata di oggi prenderanno in toto perché poi alla fine, insomma, stasera davvero c'è il rischio che purtroppo possa piovere e dunque rovinare anche le varie iniziative che sono in programma ce ne sono diverse di queste iniziative la prima, quella su cui punta la città di Pesaro è la manifestazione delle candele eccola qua, con la notte più emozionante dell'anno tutto pronto per la notte di San Lorenzo candele sotto le stelle, l'ora delle emozioni c'è grande entusiasmo diversi stabilimenti balneari sono al completo hanno dovuto rifiutare le prenotazioni dalle 19 di questa sera fino a mezzanotte al lavoro ci saranno 40 volontari una tavolata di 5 km distribuite 2100 fiammelle ci sono state richieste di partecipazione anche da fuori regione il Corriere di Pesaro in primo piano mette anche la cronaca con questo scuterista che investe un ciclista è grave, dopo l'urto in via Gioliti finisce contro un'auto in transito il ragazzino in bicicletta attraversava sulle strisce pedonali rapinato e picchiato Claudio Mari ha inseguito il malvivente Claudio Mari è un farmacista che è stato colpito al volto con il calcio della pistola giocattolo, c'è un identikit l'autore probabilmente ha già messo a segno altri colpi questo malvivente pare essere alto, forse 1,85 piazzato, distinto, con una inflessione nell'accento del nord Italia agito con una bandana alzata fino a coprire il volto è un cappellino da baseball è rapinato poco più di 500 euro poi da Sant'Angelo Invado il sindaco i giovani sono infelici, aiutiamoli aiutiamoli Luzzi, sindaco di Sant'Angelo Invado ha 20 giorni dall'atroce delitto di un suo giovanissimo concittadino ovvero Ismaele Lulli di soli 17 anni ucciso nella chiesetta lì di fuori insomma dalla chiesetta di Campania San Martino in Selva Nera ebbene parla di questo omicidio e ricorda l'orrore di questo omicidio e dice sono ancora frastornato a volte ho voglia di pensare che non sia accaduto nulla da Fossombrono invece gli archeologi francesi esaltano Forum Semproni buoni risultati della campagna di scavi estiva cambiamo pagina, andiamo su quella di Fano dal Corriere un tesoro precluso al pubblico l'ex sovrintendente Baldelli denuncia chiuso l'accesso ai beni monumentali un turista che visita il centro storico di Fano e che desidera poter entrare ogni giorno nelle aree archeologiche, negli ambienti sotterranei nelle chiese come quella di San Pietro in Valle che viene descritta con tutte le guide come la più bella chiesa barocca di tutte le marche e cosa si trova davanti? il più delle volte si trova davanti porte chiuse in maniera irremovibile e nell'elenco c'è anche oltre che San Pietro dicevamo gli scavi di Vitruvio la sala ipogea della Memo l'anfiteatro e teatri romani intanto successo sabato sera per Inger Perfan vivacità, allegria, curiosità sono gli elementi che hanno caratterizzato l'atmosfera di Inger Perfan la manifestazione che insieme alla festa del mare ormai dà l'impronta di sé al mese di agosto ex zuccherificio incombe il ricorso al Tar già fissata a ottobre la discussione dell'istanza di Madonna Ponte la società ha segnalato un danno di 40 milioni di euro la giunta tace la tragedia, la tragedia di questa famiglia la famiglia Tallevi vedete qui Corrado 71 anni deceduto venerdì mentre stava andando al pellegrinaggio organizzato dall'Unitalsi a Loreto l'Unitalsi adesso si impegna a portare il figlio Alex di 41 anni al funerale del papà Alex ancora non sa nulla della morte di suo padre Alex è un ragazzo di 41 anni che dall'età di 11 è in una sedia a rotelle dopo un brutto incidente che ha avuto in bicicletta ebbene da quell'età dall'età di 11 anni Corrado con la moglie Angela che adesso è ricoverata in gravi condizioni al Torretti di Ancona si occupa di Alex si sono sempre occupati di Alex una famiglia davvero straordinaria una famiglia esemplare una famiglia che con grande dignità e sempre con il sorriso ha portato questa croce grande che davvero così questo incidente fa riflettere fa riflettere tanto purtroppo però sono cose che sono cose che accadono probabilmente Corrado che è qui in questa fotografia è stato colpito da un malore perché la stradale che ha fatto i rilievi non ha visto segni di frenata sull'asfalto poi c'è da dire anche un'altra cosa che la famiglia Corrado stava guidando dietro il pullman il pullman era un po' più avanti il pullman degli altri pellegrini che stavano andando appunto a Loreto tra l'altro non si sono accorti di niente si sono accorti che mancava la famiglia Talevi soltanto quando hanno visto che non arrivavano a Loreto e quindi provavano a chiamare e il cellulare al cellulare non rispondeva nessuno e dicevo l'uscita dell'autostrada l'incidente è avvenuto sull'uscita di Ancona Sud chi va a Loreto sa benissimo che non è quella l'uscita per raggiungere il santuario e di conseguenza si pensa davvero che Corrado possa aver sentito già qualcosa avesse iniziato già a sentirsi male e quindi pensava di poter uscire e quindi di evitare di rimanere in autostrada poi però lì cosa sia successo qualcuno ha provato a chiederlo ad Alex che tra l'altro sembrava inizialmente quello che stesse peggio poi invece probabilmente perché era tutto legato bene anche con le cinture di sicurezza e quello che alla fine se l'è cavata meglio di tutti e però Alex non ricorda non ricorda granché anzi ha chiesto del padre mentre ricorda della mamma ricorda che la mamma era vicino a lui per terra quando sono arrivati i soccorsi mamma che per fortuna insomma pare da quello che dicono i medici stia meglio e quindi dovrebbe salvarsi in qualche modo dovrebbe salvarsi e allora quindi da stabilire anche la data del funerale di Corrado intanto l'altra notizia sempre da Fano una donna di 55 anni che è stata trovata morta in casa è una nuova tragedia causata dalla depressione andiamo avanti lo sport un gran bel Fano fa sudare l'Ascoli un amichevole che si è giocata allo stadio di Mancini di Fano dove tra l'altro erano presenti 600 spettatori quindi un bel derby che da 70 anni però è solo una amichevole il risultato 2 a 2 Fano-Ascoli 2 a 2 Granata in vantaggio nel primo tempo poi sorpasso il bianconero e un nuovo pareggio dal messaggero sì notte delle candele l'incognita adesso sono le previsioni del tempo il tempo il meteo prevista grande partecipazione in spiaggia ma nell'eventualità di pioggia o di nuvole la serata attenzione verrà rimandata a mercoledì 12 quindi fra due giorni su tutto il litorale hanno aderito 65 stabilimenti balneari con l'eccezione di Baia Flaminia dove ricorderete c'è la protesta la serata per la scelta del sindaco Ricci di aprire lì vicino alla spiaggia di Baia Flaminia una spiaggia riservata ai cani i bagnini non la vogliono e quindi questa sera protestano torna l'incubo del rapinatore seriale anche qui da Pesaro e Provincia vedete il farmacista con la medicazione al naso e alla fronte dopo lo sdentato è il turno del distinto lo sdentato ricorderete era un altro rapinatore seriale che rapinava a orario di chiusura farmacie e quant'altro lo chiamano e l'hanno chiamato lo sdentato proprio perché gli mancava dei denti adesso invece poi quello è stato arrestato e adesso invece c'è il turno del distinto quest'uomo di cui dicevamo alto 1,80 insomma ben sistemato distinto con accento del nord torniamo sul resto del carlino perché voglio far vedere questa pagina una pagina nazionale del resto del carlino perché si parla di un di un personaggio anche questo anche questo straordinario straordinario perché perché è un frate padre Pietro Lavini di 88 anni è un frate remita che ha vissuto da solo sui Sibillini e purtroppo è morto a 88 anni ieri mattina alle 9.15 è morto nell'ospedale di Amandola e veniva chiamato il muratore di Dio perché pensate da solo in 40 anni ha ricostruito una struttura benedettina che adesso è strepitosa è veramente molto bella e se prima che torni l'inverno il freddo e la neve ecco se qualcuno voglia e non so adesso come si è messa se si è aperto oppure no però ecco al tempo c'era il frate finché stava bene c'era questo frate ad accogliere da solo proprio in mezzo ai monti una cosa molto originale molto suggestiva adesso non so che fine farà questo questo eremo però ecco la notizia è questa che purtroppo questo frate se n'è andato 88 anni dopo aver ricostruito a mano ma veramente a mano nel vero senso della parola a mano questo questo eremo alla baia imperiale è strapiena di ragazzi una multa di 5.000 euro perché? perché c'erano 3.500 persone in più rispetto alla capienza regolare quindi la discoteca è stata passata al setaggio dei carabinieri scoperti dentro uno spacciatore un falsario con banconote per un valore di 1.000 euro uno dei soci della baia imperiale Marco Badioli dice quei numeri sono giusti se fossero stati 1.500 non avremmo aperto poi anche qui le candele da tutto esaurito con cene spettacoli sotto le stelle vedete in che modo poi verranno sostenute le candele c'è questo bastone con questa con sopra la base nella quale sulla quale verranno appoggiate appunto le candele questa è la struttura quindi saranno tante queste strutture sparse un po' speriamo il tempo perché insomma il tempo come abbiamo visto non è un granché a Montelabate invece un ex cameriere è stato trovato morto in auto ieri mattina un un uomo si chiamava Rino Pozzoli 59 anni separato padre di due figli ex cameriere viveva in auto una vecchia Fiat Punto grigia la morte risale a qualche ora prima non accettava aiuti dai familiari eppure una sorella aveva chiesto soccorso nei giorni scorsi al comune per trovare un tetto al fratello l'amministrazione si era detta disponibile però lui non c'è stato niente da fare Rino aveva perso il lavoro anni fa alla casaccia di Gradara quando poi insomma si è lasciato andare e vedete qui la foto invece di questo incitente che è venuto in via Giolitti a Pesaro grave un 52enne del posto svanito nel nulla il bandito invece sessantenne ma i carabinieri hanno già un identikit chiudiamo con l'ultima pagina quella di Fano e Urbino a Fano si parla della campagna referendaria di Possibile Possibile nuovo soggetto politico fondato a livello nazionale dall'ex PD Pippo Civati poi teatro dialettale questa sera a Tre Ponti il Faro presenta lo spettacolo dal titolo La Fattucchiera Pastrucchiona una commedia in dialetto pesarese poi a Marotta Piano Marina il blackout è all'ordine del giorno situazione dell'illuminazione pubblica che ormai è diventata inaccettabile mentre a Carpegna una bomba d'acqua ha causato danni e ha fatto rinviare diverse manifestazioni diverse feste e con questo si chiude qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti